E invece è cambiata la tua esultanza? Il siuu? Lo facevi? L'ho detto male? No, bene, bene. Sì, no, male. No, no, bene, bene. Insegnami. Siuu. Ma che ridi? Sì. 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 Quando ero in Real Madrid, quando ero vien, tutti gli dicono sì. E ho cominciato a dire, non ne sai perché. È stato natural. Ahah. Mi sco state un tante e ho fatto quello. Hai capito? Ahah. E ho esperato. Al gente chè, come, perché ho fatto? Perché sono quello stesso? Non ho. Ho fatto naturalmente. E naturalmente. Così ho sempre dicevo che i migliori le tante persone succederebbe in un modo natural. Grazie a tutti. Sìììì! Incialla. Sììì! Grazie a tutti Grazie a tutti